Il cimbro, lingua parlata anticamente sull'altopiano di Eseago, veva insegnato dal prossimo anno nelle classi elementari del comune di Roana, con tanto di libro di grammatica, il primo caso in Italia. Questa lingua è un po' particolare, anzi molto particolare, perché è denominata cimbra, ma sostanzialmente è una lingua germanica, tedesca, arrivata sui nostri monti mille anni fa. Il mio nonno lo parlava molto bene, andavano a fare il filo nelle staglie e quando volevano fare qualche discorso che i bambini non dovevano capire parlavano in cimbro. I bambini devono crescere consapevoli, forti della propria identità, ma consapevoli e forti per confrontarsi con il mondo e dialogare e collaborare con il mondo.